Signor Slong, intanto le domandiamo un po' di qualificarsi, capire chi è e che ruolo ha e cos'è il Consorzio Sviluppo e Innovazione? Io sono Presidente del Consorzio Sviluppo e Innovazione. Il Consorzio è un soggetto nuovo, nato l'anno scorso, a luglio del 2013, ma operativo da gennaio del 2014. È un consorzio di cooperative sociali, è un consorzio che ad oggi raggruppa 9 cooperative, di cui 7 sociali e 2 non sociali, della provincia di Belluno. Visto i chiari e l'una che ci aspettano, ha più senso per le cooperative mettersi insieme e lavorare tutti insieme per un obiettivo comune che è la sopravvivenza. Non parliamo più di incrementare comunque nel fatturato, ma di difendere le proiezioni che avevano raggiunto. Quanti richiedenti asilo attualmente gestisce il Consorzio Sviluppo e Innovazione e quanti, se lo sai, ci sono in provincia? Sì, attualmente il Consorzio tramite le cooperative ne gestisce 58. Sicuramente siamo su 150-160 richiedenti asilo. Determinata la disponibilità del Consorzio Sviluppo e Innovazione, hanno dato la disponibilità ad un'assunità del gruppo CEIS, il quale sta in questo momento qua garantendo dell'ospitalità alla Prefettura. La maggior parte è concentrata a Belluno, vari appartamenti, barra case, abitazioni che abbiamo trovato, reperito, o che sono delle cooperative o che con noi abbiamo reperito tramite privati. normalmente vivono 8, barra 12 persone, se appunto la struttura è accogliente, se è sufficientemente grande. Diciamo che per noi non abbiamo degli standard di riferimento, in quanto comunque la Prefettura tramite convenzione ha dato ovviamente indicazioni di alloggi vivibili, adeguati. Il nostro parametro che abbiamo utilizzato è un bagno ogni 6-8 persone, quindi il concetto è questo. Siamo arrivati a vedere un po' la situazione dei migranti e per l'opinione che era noi, certi siamo felici di sentire queste informazioni da te, che ci hai detto oggi, però abbiamo trovato una situazione leggermente diversa, nel senso che via Vittorio Vento, no? Sì. Almeno ci è sembrato che vivi intorno alle 10-12 persone con una toaletta. 10. Anche perché appartamenti via Vittorio Vento ce l'hai visto comunque molto ampio. Ma senza arredi. Comunque grazie a una cooperativa che fa smaltimento di mobili, grazie comunque ai volontari, degli operatori, stiamo lavorando con i ragazzi per creare il proprio rendimento. È nuova questa cosa qua? Noi domenica abbiamo parlato un po' con loro e non ci sembrava di aver capito questa cosa qua. Beh, guarda... Non so... Parliamo di stata comunicata? No, è stata comunicata sicuramente. Non so con chi parlato, con chi ne ha parlato, però... non so con chi ha parlato? 12. 12 persone. E... E... How many rooms do you have? Do you remember? 4... It's 4 rooms. 4 rooms? Yes. The other one is just... It's not only a room, it's made for one person. And in this 4 rooms, 3 people in each room. And in the kitchen of the house, we only have... 12 of us have only one kitchen. One kitchen. Then we have only one toilet and bathroom. No way to wash. No way to wash. No way to wash. No way to... Sometimes if you want to ease yourself, you have to wait for another person. You have to wait for the other bathroom before you can be able to enter. Yeah, of course. No way to wash clothes. Ok, so you don't have the laundry to... No. No laundry. No laundry. No machine. You can see clothes on the ground here. Look at clothes. Yeah. Look at clothes here. Yeah. How change have you? How clothes? Only two. Only two. Only two or three. One toilet. One toilet. We share one toilet. Ok. La cosa che ci chiediamo è, a tre mesi di distanza, è possibile davvero che i ragazzi si facciano la doccia con la voce, perché io l'ho vista, è in uno stato ingiustificabile? No. Credo io. Beh, certo. In realtà, dentro di una casa, con una toilette, e solo le brande... Cioè... No, beh, le brande, insomma... Come... Beh... Branda, macasso... Ah, beh... Sì. In senso letto, insomma, con le doghi. Sì, sì, no. In senso letto, però dico solo letto. Un'altra cosa che non abbiamo trovato riscontro è il suo discorso di Alungardo. Cioè, Alungardo, attualmente ci sono delle persone nell'appartamento di società nuova in Alungardo? No, nella zona sopra, nella zona sopra. La zona sopra. La via Alungardo, che poi non è che via Alungardo, dove inizia... sono un livello 1, però sono nella zona comunque centrale sopra via Alungardo. E ci sono delle persone gestite dal Consorzio... Sì. Sì, sì, sì. Ah, ok. Sì, sì, sì. Poi, tipo, facciamelo a capire... Alungardo è stata una... È stata una... Una struttura utilizzata inizialmente. E poi chiusa per il cooperativo studio? Ma chiusa perché poi la cooperativa aveva altri progetti. Abbiamo visto che il problema fondamentale, la questione fondamentale, la chiave dell'integrazione è probabilmente proprio quello della lingua comune. Che tipo di progetto educativo è stato messo in campo in questi tre mesi? Sì. Cosa si è fatto? Qual è un po' la fotografia dell'aspetto scolastico? Sia della situazione dei residenti asilo, sia di quanto avete fatto voi e su dove siete venuti a lavorare. Certo. Sì, ecco, facciamo il primo passo per l'integrazione sicuramente è la conoscenza della lingua, in questo caso la lingua italiana. Abbiamo iniziato garantendo loro comunque 9-12 ore a settimana progressive, perché non tutte da subito, perché comunque... 9-12, una settimana di insegnamento tramite... Procapite? Sì. Chi si applica bene sicuramente ha fatto dei passi in avanti molto evidenti. Ovviamente sono persone che hanno fatto pochissima scuola, più. tutti. Quindi tutti quelli che sono arrivati, ovviamente provengono da situazioni disagiate, situazioni comunque di paesi di campagna, paesi comunque di rurali, di città, paesi rurali dove comunque insomma bene che vada qualcuno ha fatto la scuola coranica, qualcuno ha fatto alcuni anni presso una scuola di missionari, però per quanto riguarda l'alfabetismo siamo molto distanti. Allora, questo non ci risulta. Cioè, invece è risulta che il problema più grosso che abbiamo visto fino adesso è proprio questo a Belluno. Cioè, i due elementi che noi da quello che abbiamo visto mancano totalmente che sono le attività durante il giorno e un programma scolastico. Ma noi abbiamo parlato con delle persone che, a differenza di quanto dici tu, sono molto scolarizzate. Siamo parlando delle scuole integrazioni che dovete attendere, avete alcuni scuola italiani? No, non italiani. Solo uno, Mr. ****. Il primo che ci prende a la supermercata e ci prende a la scuola. Quindi non è un professore che non capisce questo insegnamento. Non è qualificato. Quando insegnano noi non capisce. Non capisce. Queste sono le scuole. Non si parla inglese. Non si parla inglese. Non ne parla inglese. Ed non ti parla inglese. Non ti mette il tempo di memorizzare. Se iniziata ad un altro sport. Non è un amico, non è un amico. Perché in Nigeria se знаю i nostri insegnanti i nostri insegnanti. Si, si. Quindi dove ti facciai questo? Io non mi raccogliessi solo un corso. La quale è una sede. Qui? Per qualche Kumitra invenzione? In una scuola? Un'ora? 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 Un'ora in tre mesi? Un'ora in tre mesi Ok Ok And about the orienteering, did they explain something to you about Belluno, the territory, the opportunity, the industries that are in Belluno? I don't know, I'm guessing Because they should also inform you to create a better integration about what the territory is about Maybe it's later In the case of that we have not gotten any information about Belluno But all we know is that we are in Belluno That's all we know We don't know anything We don't go out We don't go out But if you want to ask What are your ability of information to you about Belluno? How did they decide for the Denet andIXille Belluno Dare? Cosa are they what are they creating and what are their Sheriff's life What are they What are they doing designed段 Shaynao and what theDIA That is connected to their their daily activities Who interested that we wanted to知 that their actuaries What are they doing We started working together anche all'interno della struttura, ogni settimana comunque c'è un gruppo che fa le pulizie, ogni settimana c'è un gruppo che fa la mangiare, che mette via, che sparecchia, ci sono dei gruppi che hanno le singole mansioni. A parte la gestione interna dell'appartamento delle mansioni domestiche, di manutazione ordinaria e le faccende che quotidianamente si stanno in fronte. Le attività fuori, cioè la giornata, cioè quali sono le attività che sono state attivate. e l'unica volta che mi spaventava in attività è quando mi spaventava a fii. No, solo una volta. Solo una volta. Se volete andare al centro, possiamo trovare una barca, 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 una barca. Siamo dotati la barca. No! Sì! Quanto costa il cibo? Il cibo? Beh, guardi, il latte che avevamo utilizzato costava oltre 9 euro al giorno. però adesso mi sembra che 5 si è gestito in maniera di essere abbiamo trovato dei percorsi formativi per quanto riguarda poi la spesa fatta da ogni singolo gruppo e la preparazione successiva dei pasti per quanto riguarda la città, qual'è la situazione dove dovete avere la città di solitari di solitari di solitari la città, quando siamo in Ossia, stiamo compilando la città di solitari stiamo non acostumbrati a questa città, stiamo portando plastica, non c'è qualcosa, stiamo compilando quindi quando arriviamo qui, stiamo dicendo che dovessi andare al supermercato e comprare la città di solitari per l'Omsia, quindi loro sopravvano rice per noi e comprova runningo coffee per noi E abbiamo sp Jessica dice che vogliono continuare a città di solitari andre a sapere di solitari Quindi si chiedono che per te coppia e rice? 黑er e rice, solo cofee e rice in mangiù prepari come grazie, mangi in mangiù metà e poi in mangiù città rice. So we complain and say that there's nothing you can do. No vegetables. No vegetables. No fruit. Only one apple. One apple. Sometimes two. So normally what do you eat? A coffee and then rice? Rice, rice, rice. No other food. We can change. We have done a few points because we have published the information that are public, the money that are in this program, we have done a few points, and if you correct me if you're wrong, 30€ a day more IVA for profit, for more grand. I'm going to tell you how many there are in Belluno, but a little low, and I'm going to tell you that only this year, from the beginning of the year, around this year, it is about 1.000.000 or 1.500.000 euro, which is about 650.000, in terms of development and innovation. Thank you. Our question is this. 1.500.000 euro pubblici in mano a 5 cooperative, 6 cooperative bellunesi and that have in mano 1.500.000 euro in soldi pubblici per la gestione dell'accoglienza dei migranti, che secondo noi è un progetto da fare, anzi da fare meglio. la domanda è, visti questi 3 mesi, nei prossimi 6 che mancano, se hai intenzione di attivare un'economia intelligente, perciò non di fare rendita di questi soldi o di reinvestirli sulla formazione e sull'integrazione davvero, perché secondo noi, se questi soldi qua vengono reinvestiti in un'economia di formazione e integrazione intorno a queste persone qua, intanto portano posti di lavoro, perché se quelle volontarie venissero pagate quello serve un lavoro e fanno un servizio che è dentro una convenzione stipulata da una prefettura su soldi che vengono dallo Stato. questo è fondamentale a capire, non c'è discorso di riconoscenza o di bontà o di, io ho piacere che voi diciate che vogliamo andare oltre la convenzione, ma la convenzione c'è, e è una convenzione che si vale su una copertura ai soldi pubblici, allora la domanda che ti faccio è, avete intenzione di cambiare marcia? Il sistema consortile è una gestione nuova, nel senso che non eravamo né pronti a rispondere all'esigenza di 60 persone ai quali della raccoglienza, pronti nel senso di non avere la struttura logistica, di non avere il personale, però ci siamo conto che per noi era, ovviamente, non ci si arricchisce, ma era un momento per poter dire ok ci siamo come consorzio, rispondiamo all'esigenza del territorio, cerchiamo di rispondere al meglio, ma ti dico, ma sicuramente tante cose potrebbero essere fatte meglio. Cosa do you need more? Yeah, what we need, what we need, at least, is just to go for the Italian courses, then for social training, so that would be a better citizen to this country. We have our commission, we have something to present, something, a complicated employer, because we undergo the training, so we'll be a liability to the country, the cities or the people around. we want to be a good citizen to this country, learn Italian, learn some training, off work, then we are ok. That's why we are begging him and he's not giving us. And the other reason why we are begging him for this thing is that, we don't want, at the end of the day, at the end of the contract with us and with Mr. President, we go and stand in the supermarket and we beg him money. We don't want to beg for money. People are there that are begging for money because they never get this opportunity. That's the reason why they pay for money. We don't have time. We don't have time to beg for information. We don't have time to beg. No, we don't have time to beg for money. We did, but we can beg for three years later. where you can handle the networking. I think I'm going to do this this program.